Vi sono libri che raccontano storie romanzate e vi sono poi libri che raccontano storie vere invece. Quando voi avete tra le mani un libro che racconta una storia vera che sembra un romanzo, allora quel libro è davvero magico. Continuate a guardare il video perché oggi voglio parlarvi di uno di questi libri. Grazie a tutti. Ciao a tutti e bentornati dopo la pausa estiva. Pausa estiva che mi è stata utile per scrivere qualcosa, per scrivere un po' di racconti. Di che cosa voglio parlarvi oggi? Forse di uno dei sei libri dello strega, dei finalisti, perché da quest'anno sapete che i finalisti dello strega non sono più cinque ma sono sei. No, non è questo di cui voglio parlarvi oggi. Allora forse Riccardino, il libro postumo di Camilleri, quello che chiude la saga di Montalbano, neanche. Perché? Perché? Non perché questi libri non meritano assolutamente, ma perché voglio parlarvi di qualcosa di nascosto, di un piccolo gioiello che è un po' lasciato in un angolo. Diciamo che parlarvi di questi libri così famosi non lo ritengo così necessario. Voi potete trovare su internet tutto e di più per quanto riguarda le recensioni. Tutti i blogger, tutti quelli che recensiscono libri si sono sbizzarriti quest'estate a parlare di questi libri importanti. E invece oggi sentirete una storia completamente diversa. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale qui sotto e anche utilizzate la funzione campanella che trovate in alto, così tutte le volte che pubblicherò un nuovo video potrete essere informati e se portate degli amici in questo canale ve ne sarò davvero grato. Oggi dunque voglio portarvi alla scoperta di un libro tra virgolette vecchio del 1948. Il suo titolo è Contichi ed è edito da una casa editrice minore, la Robin Edizioni. A oggi, perché in realtà in passato è stato edito anche da altre case. Come mai direte voi una casa editrice minore? Beh, perché a volte mi piace fare un po' un tuffo all'interno di cose un po' diverse. Ma sappiate che questo in realtà è veramente un capolavoro. È un libro che è stato scritto, ripeto, tanti anni fa, alla fine degli anni 40, ma in realtà è stato tradotto in 70 lingue diverse e ha venduto decine di milioni di copie. In Italia succede un po' così, a volte dei capolavori vengono un po' lasciati lì. Noi abbiamo in Italia una casa editrice iperborea che è specializzata negli autori del Nord, Europa, e però questo libro che è stato scritto da un norvegese, Thor Heyerdahl, che tra l'altro, attenzione, questo libro è il più venduto di sempre da parte di uno scrittore norvegese, finisce in un cantuccio. E allora andiamo insieme a riscoprirlo. Di che cosa parla questo libro? È il resoconto di un viaggio, di un viaggio straordinario. Attenzione, sappiate che da questo libro è stato tratto poi un film, se non ricordo male, nel 2012, che è molto bello. Ma non solo, Thor Heyerdahl durante il suo viaggio ha girato delle riprese, che nel 1951 sono state premiate con un Oscar in America come miglior documentario. Andiamo quindi a scoprire che cos'è questo libro e qual è questo viaggio. Qual è questo viaggio? Beh, dovete sapere che nel 1947 sei ragazzi, sei uomini, affrontarono l'Oceano Pacifico navigando su una zattera dal Perù fino alla Polinesia attraversando 7000 chilometri di Oceano Pacifico. Ma perché fecero questo? Per dimostrare una teoria che aveva elaborato Heyerdahl. Ma qual era questa teoria? Beh, secondo Heyerdahl, la Polinesia era stata colonizzata da una civiltà che proveniva dal Perù, scomparsa poco prima dell'avvento della dominazione degli Inca. Chi era Heyerdahl? Heyerdahl era un antropologo, un etnologo e anche uno zoologo. Prima della guerra è in Polinesia con la moglie e si stupisce di un fatto, girando fra quelle isole che, pensate, sono sparse su una superficie quattro volte grande l'Europa, che nonostante tutta questa enorme distanza, tutti parlano un dialetto che può essere ricondotto a un unico ceppo linguistico. Ma la cosa più sconvolgente per Heyerdahl è che gli abitanti della Polinesia sono divisi sostanzialmente in due etnie diverse. La prima di pelle scura, chiaramente di origine asiatica, la seconda invece di pelle chiara, dai capelli e dagli occhi chiari. E questo è per lui un vero mistero. Finita la seconda guerra mondiale dove lui deve combattere, lui ripensa a questo aspetto ed elabora una sua teoria, una sua tesi. Su cosa si basa questa tesi? Beh, quando lui prima della guerra era in Polinesia parlò con un vecchio dove lui era ospitato e questo vecchio gli raccontò la leggenda di Tiki. Chi era Tiki? Tiki era un personaggio leggendario, un mito per i polinesiani, un dio. Era colui che era arrivato da dove sorge il sole con delle barche e aveva colonizzato la Polinesia. Effettivamente Heyerdahl si ricorda dei suoi studi, si ricorda del periodo in cui lui era stato in Perù e nota una straordinaria somiglianza tra le sculture della Polinesia e alcune sculture del Perù, alcune sculture di una civiltà che in realtà era preesistente agli Inca. Terminata la guerra, allora che cosa fa? Lui elabora una teoria che questa civiltà possa aver abbandonato il Perù, spinta anche dal popolo bellicoso degli Inca, che tendevano a spingerli sempre più a sud, e abbia scelto di emigrare sul mare. Naturalmente all'epoca queste teorie venivano scritte più che su libri, su delle vere e proprie tesi, e poi venivano portate dove? Nei musei, nei centri di studio, per essere catalogate e lasciate come documentazione per gli studenti, per coloro che volevano effettuare delle ulteriori approfondimenti, degli ulteriori analisi. Era un modo per acquisire autorevolezza, ovvero più la tua tesi veniva studiata e citata da fonti o da studenti, e più tu acquisivi importanza all'interno della comunità scientifica. Però la tesi di Eierdal viene derisa, soprattutto negli Stati Uniti. Perché, vi chiederete voi? Beh, per un fatto molto semplice, che la civiltà di cui parla Eierdal in realtà non conosce la ruota, non conosce il ferro, e non ha mai costruito delle grandi imbarcazioni. Per cui lui si sente dire, ma com'è possibile che un popolo abbia sfidato l'oceano se non ha lasciato delle imbarcazioni? In realtà Eierdal sostiene che cosa? Che quando gli spagnoli incontrarono le popolazioni incas, furono proprio gli inca a parlare di questa misteriosa gente che gli aveva in realtà insegnato a navigare con delle zattere che utilizzavano per la pesca, e che questa misteriosa popolazione era poi scomparsa nel nulla. Quindi Eierdal suppone, ipotizza che questa popolazione abbia deciso, anziché di emigrare al sud via terra, di tentare la strada dell'oceano sulle loro zattere. Queste zattere erano state descritte dagli spagnoli e perché questa popolazione aveva insegnato agli incas l'utilizzo e la costruzione di queste zattere e gli incas le utilizzavano effettivamente per la pesca. Uno dei più famosi accademici statunitensi si mise semplicemente a ridere di fronte a questa teoria e disse a Eierdal, beh, caro Thor, prova tu a navigare su una zattera per 7000 chilometri sull'oceano più grande e più tempestoso della Terra. Ecco, questa sfida lanciata, se vogliamo così, come beffa da parte dell'accademico, in realtà fece scattare in Eierdal l'idea di tentare l'impresa. Dovete lavorare a lungo, dovete soprattutto trovare delle sponsorizzazioni, tra cui anche quella degli Stati Uniti che fornì, ad esempio, alcune razioni K, anche se poi, come vedremo dopo, non furono così indispensabili. E alla fine riuscì nel suo intento. Mise insieme, che cosa? Un equipaggio, un equipaggio di altri 5 ragazzi come lui, tutti più o meno sulla Trentina. E nel 1947, nell'aprile del 1947, salparono in direzione della Polinesia, ovvero dove il sole va a tramontare. Portarono con sé, solo a parte la zattera e loro stessi, una radio per comunicare ogni tanto la loro posizione e il fatto che fossero ancora vivi. Delle grandi canne di bambù, contenenti acqua, alcune noci di cocco e alcune razioni K, donate come esperimento dagli Stati Uniti. In realtà furono poi inutili, nel senso che le piogge abbondanti, ma soprattutto la pesca, riuscì a nutrire, a sfamare e a dissetare l'equipaggio senza problemi. E questo fu un'ulteriore dimostrazione che la teoria di Thor non era poi così campata per aria. La zattera si rivelò semplicemente perfetta. Immaginate una zattera lunga poco meno di 15 metri e larga più o meno come una stanza. Quindi è un'imbarcazione molto piccola, assolutamente piatta, costruita con enormi tronchi di legno di balsa. Pff, lasciatemi dire, utilizzando un'immagine un po' così, e quasi immaginate di vedere un pallet che galleggia. Avete presente quei pallet su cui sono appoggiate le bottiglie dell'acqua? In effetti era una cosa piatta, aveva un'unica vela quadrata, esattamente ricavata dai disegni che gli spagnoli, gli antichi conquistadores, avevano tracciato. Ma, come dicevamo, si rivelò assolutamente perfetta. Essendo piatta non imbarcava acqua, essendo piccola cavalcava le onde gigantesche dell'oceano quando c'era tempesta e non veniva spezzata, non veniva ribaltata. Era un po' come una navetta dell'ottovolante. Certo che, a pensare alle tempeste sull'oceano, su un'imbarcazione grande come un paio di stanze, deve far piuttosto impressione e paura. Ma loro ce la fecero. L'intuizione di Thor e Erdal era davvero giusta. Navigarono per poco più di cento giorni e raggiunsero le isole della Polinesia. Compirono questa traversata di 4.000 miglia marittime, circa 7.000 chilometri, ecco, pensate, 7.000 chilometri. All'epoca era Thor, quando presentava i suoi scritti, diceva più o meno la distanza tra Mosca e Chicago. Ecco, una distanza immensa, coperta da una piccola zattera di balsa. Terminata la navigazione, l'entusiasmo per questo straordinario evento, straordinario successo, fu enorme. La Norvegia mandò una nave cargo a recuperare i sei ragazzi e a caricare anche il Contiki. Il Contiki oggi è esposto a Oslo. Se voi andate in Norvegia e visitate la sua capitale, c'è proprio il museo Contiki, dove là è ancora custodita la zattera originale che i sei ragazzi utilizzarono per la loro traversata. Perché questo libro merita di essere letto? Beh, spero di avervelo spiegato in maniera chiara, no? Nel cuore di ogni uomo c'è il desiderio del viaggio, desiderio che ha spinto a creare delle opere straordinarie. Pensate all'Odissea, pensate alla Divina Commedia, pensate ai viaggi descritti dalla fantasia di Jules Verne, ma pensate anche in ambito cinematografico, ad esempio al Viaggio per Eccellenza, alla saga di Star Trek. Ma soprattutto l'idea del viaggio ha ispirato non solo delle opere di fantasia, ma anche proprio dei viaggi reali. Pensate all'impresa di Cristoforo Colombo, alle esplorazioni di Vasco de Gama, di Amerigo Vespucci, pensate ai viaggi di Roald Amundsen, di Perry, di Cook, e come dimenticare, ad esempio, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Ecco, tutte queste imprese sono imprese veramente leggendarie. Per certi versi, anche se forse meno nota, l'impresa di Ayrdal, per il coraggio di quei sei ragazzi, è ancora più straordinaria. Sei ragazzi che sono appena usciti dall'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Due di loro, quelli che erano addetti alla radio, erano incursori, e uno di loro rischiò di essere catturato dalle SS, scappò per miracolo, l'altro visse a lungo da solo per cercare di contrastare proprio i piani tedeschi di costruzione della bomba atomica, era addetto alle comunicazioni. Tutti potevano, appena terminata la guerra, pensare finalmente di vivere una vita tranquilla, dopo cinque anni di guerra. Invece, non esitarono a saltare su un guscio di noce, nel vero senso della parola, per sfidare l'oceano più tempestoso, più pericoloso, più grande che esista sul pianeta. Bene, sotto, qui sotto, vi incollo ben quattro link. Il primo è relativo al libro, è quello di Amazon, potete anche ordinarlo in biblioteca, non vi ho fatto vedere la copertina semplicemente perché l'ultima copertina scelta da Robin è bruttissima, nel senso che è una pagina bianca con il titolo e la casa editrice e la collana biblioteca del vascello, per cui vi direbbe veramente poco. Il secondo link è il trailer del film che, ripeto, se non ricordo male, è del 2012, ma è molto avvincente. se passa nelle varie stazioni televisive vi consiglio vivamente di guardarlo. Il terzo link, il terzo link è un qualcosa che vi rimanda a YouTube dove è depositato una cosa bellissima, il documentario di circa un'ora che vinse l'Oscar nel 1951. È chiaramente in bianco e nero, ma sono le immagini reali girate e un'ora di immagine su 100 giorni, per cui è un condensato estremo, ma sono le immagini reali di quel viaggio meraviglioso e straordinario che hanno compiuto quei sei ragazzi. È purtroppo in lingua inglese, ma si può usare la funzione sottotitoli, ed è in un inglese abbastanza comprensibile. Infine, vi incollo anche il link a che cosa? Al Museo Contichi di Oslo. Esiste un sito internet del museo. Il sito è in diverse lingue e racconta non solo la storia del Contichi, ma Eierdal dopo questa avventura fece molte altre esplorazioni, molti altri viaggi e sono tutte raccontate all'interno di questo sito. bisogna solo settare, ripeto, la lingua italiana e ogni volta che si cambia sezione spesso bisogna risettarla di nuovo. Però ci sono delle immagini straordinarie, ci sono anche dei racconti e un sito divulgativo e mi raccomando se dovete visitare Oslo non mancate il museo del Contichi. Bene, per oggi abbiamo terminato, spero davvero che questo mio racconto vi abbia appassionato, ma vedrete che se leggerete questo volume straordinario vi appassionerete anche voi alla storia di quei sei ragazzi e di quel loro viaggio avventuroso. Arrivederci a presto, ciao! Ciao!